Finito il vertice in regione tra il nuovo sindaco di Trania, Medio Bottaro, e i dirigenti della ripartizione ambientale, c'è ottimismo intorno alla discarica, ma si lavora costantemente per risolvere il problema? Esiti positivi, nel senso che finalmente io comincio da sindaco a comprendere tutta una serie di cose sulla discarica. Abbiamo fatto il punto della situazione insieme all'AMIU e negli uffici regionali per capire innanzitutto quello che di fatto è accaduto, quindi qual era realmente il problema. In secondo luogo per comprendere quello che si sta facendo nell'immediato per arginare il problema e soprattutto quello che si dovrà fare per eliminare il problema alla radice. È evidente che è un percorso che stiamo realizzando insieme, soprattutto ho chiesto all'AMIU una relazione tecnica perché evidentemente anche tutto ciò di cui si è parlato oggi ha un profilo così tecnico che per me già è difficile doverlo oggi raccontare alla città. Per cui invece al contrario ho chiesto una relazione molto dettagliata perché è giusto che la città sappia anche in maniera dettagliata tutto ciò che si sta facendo ma soprattutto in che modo intendiamo eliminare il problema alla radice nel più breve tempo possibile. Considerate che in tutto questo c'è anche un'indagine della magistratura, l'area è posta sotto sequestro per cui sarà una relazione per me fondamentale anche per dover andare a parlare con il magistrato perché anche in questo, come ho già detto al magistrato, è un percorso che io voglio assolutamente condividere. Guardate, è una nuova era anche in questo. Ha stabilita comunque la volontà di entrambe le parti di risistemarla e magari riaprirla? Diciamo che oggi non abbiamo parlato ancora di riapertura perché è giusto che sia così, è giusto parlare innanzitutto di messa in sicurezza e di definitiva soluzione di un problema. È evidente che nel momento in cui si parla poi di definitiva soluzione del problema e quindi totale sicurezza del sito, io politicamente non posso non pensare di riaprire quel sito, vediamo poi come, sempre se può essere garantita la massima sicurezza. Ti ho chiesto soprattutto una cosa, che i dati siano comunicati al Comune. Io non so quello che è stato fatto in passato e poco mi interessa. Ho spiegato oggi che per me è l'anno zero perché io sono il sindaco da tre giorni e quindi per me si parte da tre giorni. Ho chiesto a tutte le forze dell'ordine di comunicarmi tutti i loro dati per poter procedere a un censimento innanzitutto delle cave, partendo non semplicemente dalle cave dismesse ma addirittura dalle cave dismesse per le quali in passato si sono verificati fenomeni conosciuti dalla magistratura di smaltimento abusivo di rifiuti. Perché è evidente che io devo sapere quali sono queste cave, se esistono realmente, oltre alla cava che ormai è conosciuta, se esistono perché le devo mettere in sicurezza e soprattutto le devo monitorare perché evidentemente per me sono delle bombe ecologiche. Devo anche pensare ad una bonifica di quei siti, quindi parto da lì per poi sapere quali sono tutte le altre cave dismesse che sono un pericolo perché vanno comunque monitorate perché in futuro si devono evitare fenomeni evidentemente di smaltimento abusivo di rifiuti per poi arrivare all'ultima fase che è la conoscenza comunque di tutte le cave anche in esercizio per verificare che cosa, che poi le cave siano realmente poi bonificate al termine dell'estrazione. Da Trani per via Svea 24 Antonio Quinto